Buonasera Chiara Appendino e Movimento 5 Stelle. Chiara Appendino. Io francamente non ho capito quello che ha detto il collega, ha fatto un misto di cose che non c'entrano praticamente nulla, ha tirato in ballo gli studenti. Guardi, il ministro Piantedosi ha detto pubblicamente che il caso di proteste non pacifiche sono solo il 2%, non c'è un rischio di violenza in questo paese, quindi si stanno mischiando cose che non c'entrano nulla. Però guardi, io penso questo. Io penso che qui ci sia un tentativo di spararla sempre più grossa per sviare rispetto a un dato reale, che Giorgia Meloni negli ultimi 18 mesi non ha fatto nulla di quello che aveva promesso. Vale per l'Italia come vale anche per l'Europa. Cioè, anche questi commenti da cosa ci distraggono? Dal fatto che Giorgia Meloni, ad esempio, ha appena portato in Italia un patto di stabilità e crescita, e lo sa benissimo il collega perché codardemente si è astenuto anziché votare contro, che porterà tagli per 13 miliardi di euro all'anno. Allora, vogliamo parlare di Europa, ma parliamo di questo. Noi siamo per una politica europea che sia espansiva, che porti soldi per la sanità, che porti soldi per le scuole, che aiuti a fare crescita. Voi siete per le armi e per l'austerità. Ecco, discutiamo di questo, no? Io credo che sia questo il punto. Allora, Cappellini, Sallusti e poi voglio sentire. La conduttrice, se vuole parliamo di quello. No, no, adesso ne parliamo. La conduttrice mi fa una domanda e io rispondo alla domanda. Lei no, lei non risponde alla domanda perché non è in grado di rispondere e quindi fa il suo comizietto in stile grillino. Risponda alla domanda come faccio io. Guardi, il problema sa qual è, è semplicemente questo. Lei ha trattato in bagno degli studenti, dei ragazzi che protestano perché legittimamente chiedono di rimettere al centro il tema della pace quando c'è una forza a polle a riarmo alla guerra. È normale protestare con le immagini della premiera a testa in giù, dagli fuoco. Mi faccio finire, lei sta dicendo che i ragazzi li ha paragonati a quello che è accaduto in quella situazione che è violenza pura. Io lo sto dicendo, guardi, non insulti perché non è il caso. Io lo sto dicendo. Abbiamo cominciato subito. No, non è che abbiamo cominciato. Io sto cercando di parlare, dall'altra parte c'è qualcuno che interrompe perché a te non piace quello che sto dicendo. Io sto dicendo semplicemente che se vogliamo discutere, ripeto, di politica estera, delle questioni che riguardano quello che sta accadendo in Europa, lo facciamo, ma non strumentalizziamo ragazzi e ragazze che non c'entrano nulla, non strumentalizziamo un clima di violenza che oggi non esiste e chiudo, guardi, io sono d'accordo con lei. Bisogna sempre manifestare in modo pacifico, ma non raccontiamo in realtà che non c'è. Quindi si può incendiare le immagini della Premier senza problemi. Allora, essendo che ha fatto in modo pacifico. Aspetta, onorevole Procaccini, sentiamo anche i caluzzi. Incendiano le immagini delle persone. Questo sembra un modo normale di protestare. Allora, sentiamo Cappellini e Sallusti e anche Deborah Villa e poi le dà subito la parola. Io ovviamente condivido quello che diceva l'onorevole Procaccini sulla necessità di tenere sotto controllo le forme di protesta violente che possono esserci perché non c'è un bel clima nel paese, questo va detto. C'è una situazione difficile che può essere rischiosa. Mi convince molto meno il suo discorso quando lei comincia a fare l'elenco di tutte le frasi che secondo lei potrebbero subillare la violenza. Sostanzialmente ha fatto un elenco delle contestazioni che vengono fatte da una parte dell'opposizione a Giorgia Meloni. Mi convincono meno perché io, lei molti anni che sta a Strasburgo, ma sicuramente non si sarà perso però la fase in cui Giorgia Meloni era il capo dell'opposizione. Io le farei riascoltare i discorsi che pronunciava Giorgia Meloni quando era il capo dell'opposizione, in Parlamento, nelle piazze. Diceva delle cose molto pesanti. Sia chiaro, non sto dicendo che subillava la violenza, sto dicendo che quel discorso che lei adesso ha fatto per accusare gli oppositori di Giorgia Meloni di essere dei potenziali subillatori di violenza lo si poteva fare pari pari o forse anche di più per le cose molto pesanti, molto anche offensive che Giorgia Meloni diceva quando era il capo dell'opposizione. Stiamo attenti perché creare un recinto contro le teste calde è un interesse di tutti. Invece assumere una posa vittimista per raccontare che chi critica il governo, magari perché non è d'accordo col premierato, non è d'accordo con altre forme o altre proposte, è un subillatore di violenza, rischia di diventare invece un discorso pericoloso perché allora a quel punto chiunque alza il dito e dice no, però questa cosa è pericolosa diventa uno che apre la via al terrorismo. Attenzione, soprattutto ricordando quello che ha fatto Giorgia Meloni quando era all'opposizione. Non ve lo dimenticate perché ricordate continuamente che siete stati decenni all'opposizione, adesso che state al governo cercate di capire che l'opposizione fa il suo mestiere. Facciamo un gioco, immaginiamo dei giovani di Fratelli d'Italia che incendiano l'immagine di Draghi o di Conte, immaginiamo che si scagliano contro la politica. Una Meloni che dà del criminale al Presidente del Consiglio. Stiamo raccontando? Allora, siccome il problema non è... Il problema è che se alcuni intellettuali dicono frasi di questo genere, poi in giro per il Paese c'è gente che magari non fa le distinzioni che Canfora intendeva, che Saviano che ha detto che il Premier è una bastarda, che non è una critica politica. Dire il nostro Premier è una bastarda non è una critica politica. Allora, magari c'è gente che si convince che abbiamo un Premier bastardo e nazista. Ora, se fossimo certi che abbiamo un Premier bastardo e nazista, ti assicuro che io sarei il primo a andare in montagna a combattere questo Premier. Quindi, le parole sono pericolose, è quello che diceva l'Onorevole all'inizio di questo collegamento. Attenzione alle parole, perché un conto è la critica, anche aspra, dura, legittima, e un conto è dire che abbiamo un Premier nazista e bastardo. Sono due cose un po' diverse. Io sono d'accordo su questo. Poi voglio sentire Debora Villa, però. Mi deve far dire una cosa, perché io vorrei discutere con Torsalussi di economia, perché potrei stare a dirle perché il superbonus ha funzionato, però sai di cosa stiamo parlando oggi? Del PIL che non cresce più, stiamo parlando della produzione industriale che è calata da 13 miliardi consecutivi. 180 miliardi. Stiamo parlando di un record di povertà in questo paese. Questa è Giorgia Meloni. Noi siamo alto orgogliosamente. Oggi questi sono i dati. E purtroppo chi ne soffre sono i cittadini che ci guardano da casa, non trovano lavoro, non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. Non c'è mai stata tanta occupazione come in questo momento. Non vi sovrapponete. Non c'è mai stata tanta occupazione come in questo momento. Guardi, dottor Sallusti, ha talmente ragione che l'occupazione è sempre salita. Ma sa qual è il problema? Come fa lei, come fa il governo? Che voi passate il tempo a dire che sono bellissimi questi numeri. Ma sa cosa c'è dietro quel numero? C'è la vita di una persona. E sa che vita è? E' una persona che spesso è sottopagata, sfruttata di lavori di condizioni precarie, che non arriva a fine mese, che non riesce a pagare il mutuo. E adesso gli andremo a sentire. Per me è quella una vita. E quindi è per questo che proveniamo di salario minimo. Adesso gli andremo a sentire. No, non possiamo mistificarla in realtà. Perché ormai la destra mistifica su tutto. E mistifica su Superbonus, sull'economia, su tutto. Però c'è un dato. Io cito il suo ministro. Allora, lei smentisca il suo ministro. Quante sono le manifestazioni volente che io condanno degli studenti in Italia? Il 2%. Stiamo parlando del 2%. Il 98% sono ragazzi che vogliono far sentire la propria voce perché giustamente vogliono contestare. Allora, diciamo di cosa stiamo parlando. Perché se no, stiamo spostando il focus e non parliamo di quello che chiedono quei ragazzi. Cioè, il fatto che i ragazzi scendano in piazza e dicano, giustamente, che c'è un problema con questa guerra, che c'è un problema con la corsa al riarmo, che c'è un tema che vogliono rimettere al centro, che è la pace. Ma lasciamoglielo questo spazio. Per fortuna che lo fanno. Perché il problema, sa qual è? Ma se lo fanno, ti chiamano guadagnare. Abbiamo un governo come il nostro che non ha il coraggio di condannare quello che sta facendo Netanyahu. Che è, per me, ignobile. L'onorevole Procaccini, lei sa. No, solo perché a me comunque che questo governo sia un po' allergico e non gli piacciono le critiche, mi sembra evidente. C'è la legge Mavaglio, il tentativo del carcere per i giornalisti, la Corte dei Conti che dice qualcosa e a quel punto togli il controllo. Il partito dell'ex premier Conte si ricorda cosa ha fatto l'ex premier Conte? Lei non se lo ricorda. No, ma io lo ricordo bene. Era ben diverso da voi. Allora, a pendino, perché poi devo chiudere che ho altre quattro lezioni. Potrei dire che dal 2015 che sale l'occupazione, potrei dire che quello che vedete lì fuori è il mondo reale, che voi non volete vedere. Ma io voglio tornare sulle vite di questi ragazzi, perché quello che è inaccettabile è non essere consapevoli che quattro ragazzi su dieci, quattro ragazzi su dieci, nostro paese, prendono meno di nove euro all'ora come uno strato di servizio. E allora, cosa fa questo governo? Non propone nulla, perché sostanzialmente non propone nulla, ma fa di peggio. Dice no al salario minimo che permette di rendere illegali i contratti sotto i nove euro all'ora. Che non ha risposta a questo? Ma sa cosa fa ancora di peggio? Nel momento in cui dice no al salario minimo, dà un altro schiaffo a queste ragazze e queste ragazze. Perché sa quanto ha permesso di pagare colui che ha dato la botta finale al salario minimo? Cioè Brunetta? Hanno fatto una norma per pagare 240 mila euro Brunetta. Allora, da un lato i giovani precari, sfruttati, senza soldi con paghe da fame e dall'altro i soliti noti invece portate a te e li aiutiamo. Io dico che per questi giovani francamente meriterebbero di meno. Sono d'accordo anch'io. Le dono la notizia. Quindi d'accordo che 240 mila euro Brunetta non è una buona soluzione. Se avete avvenuto i soldi agli italiani con il Superbonus 110 con il reddito di cittadinanza con i banchi a rotelle con tutte le boiate che vi siete inventati in tutti gli anni che siete stati al governo oggi ci sarebbero delle risorse a disposizione per essere molto più di aiuto a queste persone. Sì, replica dell'appendino ma devo chiudere. Io lo so che è in difficoltà e fa il commizietto sull'intocinanza ma guardi la coperta sa perché non è corta? Perché i soldi per non tassare le banche li trovate. Due miliardi che avete rinunciato i soldi per le armi li trovate. Quindi non dica che la coperta è corta perché è un insulto a questi giovani che meritano di più. Li sta insultando Scusatemi ma devo chiudere.